Wangamanana a tutti, siamo tornati mese di maggio con le birre di maggio di Saverbier, arrivate mercoledì, siamo a sabato, se ci seguite sulla pagina facebook di Wangamanana che mettiamo qua il link, vediamo, abbiamo anche lanciato il concorso, sono 7 birre esclusendo la Dos Corvos che sappiamo già che è la birra del mese, quali sono le altre 6? avete partecipato, oggi è sabato, chiudiamo così e vediamo chi effettivamente avrà vinto, andiamo quindi ad aprire lo scatolo, il nostro bellissimo scatolo, si è sentito? tranquillo vediamo lo scatolo Saverbier, resembling decorverse la birre, grazie per vedere con noi degustazione, libretto di degustazione, Dos Corvos, la birra del mese di maggio, Madonna of Sorry che è qua dentro, andiamo a vederla, andiamo ad aprirla subito allora, c'è un rifuso aspetta eh no, l'hanno semplicemente impaginato sbagliato Dos Corvos, la Metropolitan Pale Ale e una bellissima e un bellissimo bicchiere Dos Corvos, birrificio portoghese, quindi già con una bella pale ale iniziamo, si sente che sta arrivando l'estate e ora andiamo alla ciccia del discorso ah, eccole qua, si ci sono, sono due quelle più facili che si poteva capire dalle forme iniziamo con birrificio dei eh, Dead October eh, Biou, Biou Monde Biou Monde, andiamo a seguire sempre la nostra Biou Monde, eccolo qua birrificio di D.V.K., Belgia stile Saison, quindi la, it's a beautiful world eh, che dovrebbe essere la traduzione di Biou Monde io non parlo francese, mi continuo a mandare le cose in francese ricordo sempre questa bellissima cosa, Saverbière anche se mi volessi mandare il libretto in italiano per, eh, che così vi racconto qualcosa in più del, del, d'October poi quindi, e già questa sarebbe stato difficile trovarla e beccarla Kompan Vriu Buter 45esimo Vriu Buter Olanda Netherlands è una porter sempre una scura anzi, è una double porter quindi potrebbe essere una bella botta di vita infatti va consumata calda ed è 7 gradi e 1 quindi è bella pesante questa quindi una è andata due sono andate niente, anche questa qui sarebbe stata la difficilissima beccarla Sari Brewing Madonna of Sori Session Ale Estone questa è una birra Estone e andremo a vedere andiamo a scoprire questo mese anche le birre Estone dopo le birre quelle della Einstok le birre Estone vediamo se riusciamo a leggere qualcosa eh, vabbè è una birrificio di Sori è una Session IPA quindi è una IPA di stagione ispirata all'Italia quindi al sole, mare sole, mare, mandolino mafia, pizza no, soltanto alle spiagge e agli ombrelloni quindi c'è grande voglia di estate a parte la porter di prima tre birre sono andate 961 beer una Red Ale di chi è questa? sembra curiosa la confezione sembra molto curiosa il birrificio con questo topo qua mi ricorda qualcosa no, birrificio ah, 961 del Libano è un birrificio libanese è una Red Ale come si legge dal dalla confezione un birrificio in Libano è una è una cosa strana cioè due enormi grandissime scoperte cioè queste qua sono più o meno abbastanza stun cioè Inghilterra Olanda Paesi Basse comunque Belgio no scusate ho detto una cazzata Inghilterra Olanda infatti Olanda Belgio e comunque abbiamo imparato a vedere negli scorsi episodi di Sovere Beer di Wangamanana che anche lo scorso era il era una birra olandese no comunque spagnola andiamo avanti La Trope Virambrata Spirito del Sole artigianale triplo malto La Trope francese tappo in stile Casberg facilitato hanno dovuto mettergli la facilitazione un po' come non sai allacciarti le stringhe ti metto gli strap comunque francese è una Amber Ale è garantito vabbè c'è un piccolo sole disegnato sulla bottiglia sono tutte birre molto beverine allora andiamo a vedere l'ultima quindi se per ora nessuno ha vinto niente mi sento il gusto tutto io infatti American Pale Ale Tasty French Craft Beer Black Edition quindi edizione speciale sempre per Sauver Beer la scatola è vuota l'immagine messa sul sul nostro profilo di Facebook è stata estremamente difficile parliamo velocemente della dell'American Pale Ale birrificio Page 24 francese stile American Pale Ale ovviamente come si legge e basta questo è tutto purtroppo nessuno è riuscito a vincersi una birra messa in palio quindi sappiamo che è felita vi fa gli scherzoni quindi niente però dai riproviamoci il mese prossimo vediamo che in teoria si avvicina sempre di più l'estate quindi il mese prossimo giugno vediamo con il prossimo pacco che ne arriverà da Saverbiere ciao